Ben ritrovati a tutti in base Charlie, finalmente aggiungerei come di consueto partiremo con un briefing per fare il punto della situazione e per parlare di quello che faremo questa sera Tecarabia, in realtà essendo tu facente funzione di capitano dovresti sederti vicino a noi quindi prego, mettiti pure alla mia sinistra e questa sera possiamo dividere i lavori in tre macro aree o tre macro gruppi partiamo dal più semplice che è il gruppo Horitetsu che ha una serie di compiti da portare a termine che riguardano la costruzione di tutta l'infrastruttura per arrivare al settore cantiere per più informazioni riguardo vi invito a consultare il sito perché c'è stato un articolo che riguarda proprio le divisioni civili mentre per quanto riguarda il gruppo capitanato dal tenente Viper questa sera loro si occuperanno di recuperare le tre navi minori che sono arrivate in settore una volta arrivati qua in base a Charlie abbiamo controllato i log di comunicazione e abbiamo trovato che effettivamente le tre navi hanno mandato dei ping di localizzazione appena ce ne siamo accorti ci siamo mobilitati per organizzare le sessioni di recupero non abbiamo ancora trovato però dei ping per quanto riguarda le navi maggiori le navi di questa sera che abbiamo individuato come traccia appunto sul log di comunicazione sono la Feng Wang, la Radesky e la Zumwalt abbiamo ragione di credere che però siano danneggiate tuttavia non conosciamo la natura del danno mentre per quanto riguarda il terzo gruppo che sarà capitanato da me noi ci occuperemo di fare una diagnostica totale della base Charlie faremo un giro dei sistemi e inizieremo a ricodificare l'intero pannello di controllo questo lavoro qua in particolare sarà protratto anche nelle prossime sessioni perché insieme al comitato ingegneristico dobbiamo effettivamente unificare tutta la nomenclatura di flotta sotto unico documento quindi inizieremo questa sera con le modifiche che abbiamo scelto oggi durante la riunione dopodiché potremmo effettivamente penso chiudere per questa sera dunque se ci sono delle domande per quanto riguarda non lo so qualsiasi cosa che ho appena menzionato prego fatele pure stessa cosa se i membri del comando vogliono aggiungere qualcosa fate pure l'unica cosa che vorrei aggiungere abbiamo avuto anche un ricevuto un ping quindi un gps da parte di una flotta SJC che era di passaggio che conferma in un certo senso non dico l'avvistamento ma comunque il rilevamento di alcuni debris cioè dei relitti per loro perché le forme e le shape sono delle navi che sono intorno alla base Charlie quindi abbiamo ragione di credere che questi debris soprannati dalla SJC potrebbero essere le nostre navi i loro ping sono più recenti rispetto a quelli ricevuti da le nostre ipotetiche navi e confermano più o meno la posizione benissimo benissimo ci sono domande da parte della truppa? BTS Bizio prego Bizio i documenti dove si troveranno? quali documenti? che ha menzionato prima dei documenti sul quale venivano scritte tutte le cose che si faranno sulla missione se non l'ho capito male intendi la standardizzazione della nomenclatura? allora è ancora in fase di scrittura quel documento abbiamo iniziato oggi con il comitato ingegneristico e penso che nel giro di una settimana massimo due davvero il documento sarà pronto per unificare tutta la flotta sotto unica nomenclatura ho ricevuto ok grazie mille prego ok allora gente vediamo se mi ricordo ancora come siamo messi qua in base Charlie prima di effettivamente partire voglio fare due controlli per quanto riguardano gli strumenti dividiamoci già nei gruppi quindi Viper te prendi i vari equipaggi Maxen te prendi l'equipaggio Ori i rimanenti rimangano con me e ci sposteremo in canale radio 3 eeeh...PTS Neckar? si? PTS Le Cix? eeeh Neckar prego eeeh...io mi offrivo volontario sotto il comando di Viper in quanto attivo e pilota se serve se manco un pilota per recuperare le navi allora lascio a discrezione di Viper se hai delle richieste particolari di membri vieni pure a chiederli perchè a me serve relativamente una squadra piccola per sistemare la Charlie si accetto volentieri Neckar anche perchè mi manca metà equipaggio Rad e tutto quello della Zumbolt quindi... vai va bene così in più va bene intanto qualcuno per favore faccia un attimo un volo per vedere quali sono le navi che abbiamo disponibili eeeh... io vedo una NAM due rimorchiatori e mi sembra di vedere una nave cargo me lo confermate in caso? una NAM tribella e due saldatrici NAM tribella due saldatrici e una cargo e una cargo ok allora adunata dal... sul ponte principale quello con gli LCD ragazzi ok Andre per favore mi fai un controllo se gli script sono tutti attivi vorrei che fosse attivo soltanto quello dell'automatic LCD 2 intanto cerchiamo un attimo di capire da questi LCD come siamo messi ragazzi mi serve sapere più che altro quanto... quanto uranio abbiamo ghiaccio e basta il resto va bene Andre vai nella torre di controllo e inizia a coordinare il traffico aereo ogni richiesta di partenza e rientro deve essere coordinata e approvata da te quindi stasera fai controllo traffico aereo ETS Viper? si Viper allora siamo in sei attualmente però pensandoci bene dovremmo richiedere un'altra persona perché dovremmo pilotare quattro navi quella per andare più le altre tre teoricamente si che nave prendete per andare? dovremmo aver ricevuto il prototipo di una nave per poterci spostare tutti quanti insieme dovremmo costruirla addirittura capito molto piccola e compatta si 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 penso di averlo penso di averlo quel progetto allora sai cosa ti darai il PSL CX potrei andare io volendo però voglio far fare un po' di esperienza sul campo oro bianco non voglio tenerlo in base alla prima sessione quindi sai cosa Viper? tienitelo stretto ti tieni stretto una recluta e gli fai vedere un po' una missione di recupero va bene ok non lo trascurare vai ero bianco perfetto bianco canale 2 scusa tu avrai più che altre occasioni per distinguerti ok questo qua è un trasporto passeggeri potete guardare direttamente dentro com'è il progetto vi rendete conto che c'è spazio per tutti letteralmente ok va bene va benissimo buona fortuna figurati adesso torno a inizio a lavorare con la mia squadra ok iniziamo anche noi bene a dopo ragazzi a dopo va bene ragazzi adesso dobbiamo effettivamente organizzare gli inventari quindi quali sono le categorie di cose che vi vengono in mente allora componenti munizioni componenti munizioni minerali minerali e lingotti e lingotti ovviamente ok allora facciamo così questo ragazzi non so se siete malati come me vi piace praticamente dobbiamo rinominare gli stoccaggi con le tag quindi stoccaggio 01 mettiamo tra parentesi facciamo risorse minerali minerali ecco quindi questo qua lo rinomino e adesso nello 01 ovviamente riempiendo prima lo 01 e poi lo 02 mettiamo solo minerali questo significa che tutto ciò se noi per dire adesso scriviamo minerali cos'è che esce? escono solo quei due quindi lo 01 va per i minerali anche lo 02 lo teniamo non si sa mai magari abbiamo una missione mineraria che ci fa riempire tutti i i container ok? quindi adesso lo stoccaggio 3 4 partiamo partiamo solo dal 3 facciamo lingotti e qua secondo me ce ne parti più di uno lingotto e adesso infatti se scriviamo lingotto l'unica cosa che esce è la raffineria perfetto dai ok il prossimo è lo stoccaggio quindi il 04 lo stoccaggio 04 facciamo eh componenti forza qua ci sarà da ride si io ne preparo già un altro il 5 per forza ok allora componenti come scusate lo 04 è già pieno esattamente è pieno zeppo eh ma ci sono c'erano le munizioni dentro eh ma cambia poco comunque pieno madonna come cazzo è possibile ci siamo l'assemblatore ecco cos'altro c'è delle cose a caso no queste sono munizioni eh rinominiamo lo 09 per le munizioni lo 08 lo terrei ancora per i componenti stoccaggio stoccaggio 02 minerali è pieno di munizioni lo so esattamente eppure dei componenti ci stanno ok questo spazio allora mettiamo tutto nelle munizioni nel container munizioni perfetto stoccaggio munizioni ecco qua boh divertiteli ragazzi dove trovate munizioni spostate madonna basta che fate doppio clic possiamo rifornire esercito con tutte ste munizioni siamo noi l'esercito no ma il fatto è questo bisogna almeno saperlo cioè che se noi abbiamo tutte ste munizioni porca troia grazie però se non sappiamo effettivamente dove sono le munizioni non possiamo brancolare nel buio ogni volta secondo voi si sapeva che avevamo 12k di contenitori missili secondo me no no e io li smantellerei sinceramente ne smantellerei almeno 10.000 no 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 ragazzi questo qua è un bonus questo qua è un bonus perché se l'SJC ci chiede munizionamenti noi vediamo se ce l'abbiamo ah ok mi sa che comunque abbiamo abbiamo fatto non vedo altre munizioni in giro ecco adesso una cosa che possiamo fare dato che ci siamo è fare questo ci facciamo una mezza idea di cosa abbiamo a bordo quindi facciamo una lista di tutti i materiali che abbiamo a bordo anzi sapete cosa cazzo abbiamo l'automatical cd2 che ci da letteralmente tutto facciamo gli screenshot e noi ci siamo abbiamo 7.7k di generatore di gravità che direi che sono anche un po' tantini prima di dire questo lo smantelliamo questo lo smantelliamo aspettiamo il primo bollettino di carico dell'SJC bollettino di guerra ragazzi bollettino bellico perché non si sa mai non vorrei che una certa schizzano e ci chiedano 50k di x risorsa e noi l'abbiamo smantellata i caricatori munizioni nato 5x56x45 il vecchio tipo non conviene smantellarli e rifarne dei nuovi tipi allora di nuovo perché dobbiamo farlo noi quando magari c'è una fabbrica SJC che fa proprio quello di nuovo piuttosto glieli mandiamo ragazzi facciamo un attimo un controllo generale di nuovo ma ci siamo fatti un bel lavorone di di organizzazione e beh direi io ho fatto gli screenshot per il comando così che sanno qual è la situazione a bordo dopo li ripeto un attimo così li mando ragazzi abbiamo fatto come vi dicevo prima abbiamo sistemato gli strumenti le bottiglie i componenti lingotti materiali questo diventerà lo standard quindi quando vedete qualcuno che non sistema le cose che cazzeggia che butta la roba a caso gli dici no ti prendi i tuoi due secondi e trasporti le cose dove devono andare prima però carico l'S10 posso? si bravo assolutamente quello serve un po' di motivazione procedere con la partenza alla prossima sessione SJC ping quello lì è il ping vi consiglio di prenderlo con il GPS ok gente direi che a questo punto noi abbiamo finito attendiamo che gli altri rientrino se devono rientrare che si mettano a dormire prendete una cryo chamber e ci siamo si ora posare la matrice genetica prego sono vicine come? sono vicini nella 500 video si 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 se non ero non sono ancora partiti vabbè comunque ragazzi ottimo lavoro davvero senza di voi ci avrei messo il quadruplo del tempo minimo vi ringrazio davvero e vi auguro anche una buonanotte a questo punto riposatevi per la prossima missione alla prossima buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti